Anche io oggi mi voglio rivolgere ai cosiddetti uomini d'onore, perché chi usa la violenza non è un uomo, è una bestia. Io vi conosco voi, so dove vi nascondete, molti di voi sono stati battezzati in questa chiesa. Ebbene io vi dico, voi che siete abituati ad agire nell'ombra, se siete ancora uomini, fatevi vedere alla luce del sole, le porte di questa chiesa sono aperte per voi, venite, io vi accolgo. Se siete ancora uomini, fatevi avanti, incontriamoci in piazza, parliamoci. In nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Amo. Ecco ma noi, noi, come facciamo a sapere dove sta la verità? La verità non viene dai giornali, viene dal nostro modo di pensare. Come ti chiami? Rosario. Rosario, bella riflessione, bravo. Pensare tutti con la propria testa. E' proprio questo il lavoro che io voglio fare con voi, eh? Abituarsi a pensare con la propria testa. Dire di sì se pensiamo che sia giusto dire di sì, dire di no se pensiamo che sia giusto dire di no. Insomma, non aver paura di rompere le scatole. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Paggia. Paggia. sarà da pena vi aspettiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti